Siamo davvero grato ai comitati Dossetti per aver sollecitato la discussione. Penso anch'io che fretta e silenzio non siano dei buoni consiglieri. E questo incontro è importante perché essendo parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, essendo che stiamo proprio discutendo in queste settimane di questo argomento, effettivamente, come diceva Raniero all'inizio, una certa tempestività per poter anche far sentire la voce della cittadinanza, dei comitati, dell'opinione pubblica attiva, è sicuramente importante. Abbiamo ascoltato interventi diversi, composizioni diverse, convergenti su un punto. Cioè che se modifiche debbano avvenire ora, in questo momento così difficile che stiamo attraversando, devono comunque essere ispirate a un criterio di equilibrio e di ragionevolezza, assolutamente. Può anche darsi che Luigi Ferraioli abbia ragione, entriamoci bene. No, 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 io poi lo contesterò in questo mio discorso, ma dico, può anche darsi che Luigi Ferraioli abbia ragione nel dire che non se ne farà probabilmente nulla. Io non credo che questo sia un bene, perché vedo, ad esempio, nel suo intervento una contraddizione insanabile, lacerante proprio, tra l'analisi che lui fa, che io condivido, e la conclusione a cui perviene. Analisi giusta. Stiamo vivendo un momento di gravissima e profondissima crisi, non solo economico-sociale, ma anche politica-istituzionale. Voi hai fatto riferimento a Grillo, è, diciamo così, la manifestazione più evidente, ma sappiamo bene che oltre a Grillo c'è ormai una stensione diffusa e soprattutto un discredito del sistema politico, non solo in Italia, diciamo che ha raggiunto livelli che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Ora, poiché io sono convinto che tra populismo e tecnocrazia noi dobbiamo disperatamente salvare la democrazia, credo anche che se arriviamo a conclusione di questa legislatura, senza produrre alcunché, proprio sul tema che hai detto tu, e cioè della riforma della politica, penso che saremmo travolti. Ma non penso neanche alla critica alla politica che viene, diciamo, da un'area che poi alla fine quelli che vanno a votare, che si esprimono, che magari votano per Grillo, con la quale si potrebbe anche interloquire. No, penso a un sentimento più diffuso che naturalmente è sempre andato a destra. D'altra parte, io nel pessimismo che mi sta caratterizzando in questa fase, mi chiedo, ma perché mai, se siamo di fronte alla crisi più grave da quella del 29, con errori che si stanno di nuovo ripetendo e che tu richiamavi, ma c'è qualcosa che ci salvi dalla possibilità che si arrivi ad esiti altrettanto catastrofici, per carità, non la guerra, ma comunque di democrazie, per così dire, autoritarie, pubblicitarie, secondo me non c'è nessuna garanzia che questo non accada. Allora, io capisco bene che questo è il Parlamento dei Nominati, ma lo è dal 2006. Lo è dal 2006. Allora, se questo è il Parlamento dei Nominati, probabilmente il Comitato Salviamo la Costituzione, a cui tutti noi abbiamo aderito con grande forza, non doveva riportare come sottotitolo aggiornarla e non stravolgerla, ma doveva riportare come sottotitolo fino a quando c'è un Parlamento dei Nominati, non se ne fa nulla. E allora anche il Parlamento dei Nominati, di cui io faccio parte, se le proposte che escono sono sagge ed equilibrate, qualcosa per evitare quella deriva la può fare. Perché io ripeto, sono totalmente d'accordo sul fatto che il punto focale della crisi sia il sistema dei partiti e della politica. Ma qui ci sono tre componenti, di cui una intreccia necessariamente la Costituzione, due no, perché c'è la componente della riforma dei partiti, dell'attuazione dell'articolo 49, c'è la componente della legge elettorale, qui quello che diceva Manzella va preso in attentissima e serissima considerazione. Noi abbiamo avuto un sistema che ha costantemente riprodotto la necessità di coalizzarsi per vincere, dando vita a coalizioni incapaci di governare. Quindi io che pur ho sempre sostenuto, a differenza di Andrea, il sistema maggioritario, pure sono convinto che bisogna riflettere di nuovo e che probabilmente ci sono soluzioni anche di tipo proporzionale, pur caratterizzate da elementi che evitino la frantumazione e che ci potrebbero aiutare. Poi c'è il terzo punto. C'è il terzo punto. In una mail che ci siamo scambiati con il mio carissimo amico Sandro Baldini, primo riferimento, ancora io lo ricordo, quando andai a trovare Dossetti, era appunto il 94, era in ospedale da lui, lui è il suo medico, in questa mail lui mi diceva ma sei proprio sicuro che i cittadini chiedono di cambiare la Costituzione? No, non chiedono di cambiare, però chiedono che si riduca il numero dei parlamentari, non c'è niente da fare. Questa è una domanda che c'è, a cui bisogna rispondere. E chiedono che il procedimento legislativo sia più snello. Perché ha ragione da vendere Onida quando dice che una democrazia deve decidere in determinati tempi. Ma nell'attuale sistema è ordinario il meccanismo dei decreti e non quello dei disegni di legge che vengono discussi e che alla fine producono dei risultati. Almeno su questi due punti qua una riforma della Costituzione è per me necessaria. Però ripeto, equilibrio e saggezza. E allora io sono completamente d'accordo con le proposte, ad esempio, che sono uscite in modo particolare nell'intervento di Valerio Onida. D'altra parte eravamo insieme, anche con Andrea, ad un incontro il 26 di aprile ad Astrid, con un gruppo di parlamentari trasversali ai diversi partiti che sostengono l'attuale governo, dove sostanzialmente abbiamo fatto le stesse considerazioni. E la considerazione fondamentale è che, se modifica ci deve essere, ad esempio, non si può intervenire sul meccanismo del bicameralismo nel modo col quale si propone nel testo del 18 aprile. Perché io considero, come Onida, che sarebbe sicuramente meglio distinguere le funzioni e anche la fonte di rappresentanza di Camere e Senato. Ma non siamo pronti a questo. Quindi non è il momento dei Senati federali, non è il momento del Senato di secondo grado. Se si deve tenere un sistema bicamerale, ma allora assumiamo la posizione di Leopolde Lía del 1990, cioè quella di una modifica procedimentale dell'attuale bicameralismo, che, ad esempio, si alimenta anche di quegli elementi di, diciamo, indicazione, di tempi entro i quali determinati disegno di legge devono essere approvati, di cui si parlava. Che io bilancerei, ad esempio, limitando il potere di decretazione d'urgenza del governo. Perché le due cose debbono andare insieme. Poi, come sapete, Elia proponeva che una legge può diventare definitiva qualora l'altra Camera non la richiami entro un certo periodo. Si può discutere anche di questo. Comunque, io sono assolutamente contrario al testo, così come è stato proposto, che distingue tra le due Camere sulla base di un prevalentemente, cioè di un avverbio che in Costituzione non ci dovrebbe mai essere. Voi, che giustamente avete parlato della possibilità e necessità di ricorrere alla Corte anche da parte dei parlamentari di opposizione. Voi ve li immaginate la Corte ma quanti giudizi di nullità delle leggi potrebbe, diciamo, esprimere sulla base del fatto che quel prevalentemente non chiarisce affatto quale sia delle due Camere quella che deve iniziare a discutere su un determinato provvedimento di legge. Ma allora, si abbia il coraggio di dire che questo aspetto non fa parte di quelli sui quali noi possiamo intervenire con radicalità e allora tanto vale prevedere una, diciamo, più temperata riforma dell'attuale sistema bicamerale nel senso che dicevo prima. Ci sono altre cose che mancano completamente. È stato fatto riferimento al 138 io sarei d'accordo per inserire la messa in sicurezza ma nessuno lo sta proponendo così come sarei d'accordo per inserire una modifica del cento di nessuno in Parlamento ovviamente una modifica del 117 ma io l'ho fatto lo sto facendo no ma poi finirò con una proposta una modifica del 117 cioè il riparto di competenze tra Stato e Regioni che raccolga le cose su cui ormai sono tutti d'accordo che ad esempio le grandi reti di distribuzione dell'energia o delle infrastrutture devono rientrare tra quelle su cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva io concludo in questo modo secondo me questa energia che qui voi rappresentate che sicuramente ci sono altri altre associazioni altri enti che possono sprigionare insomma indirizziamola io proporrei di indirizzarla nella direzione appunto di criticare di quella bossa tutto ciò che deve essere criticato di proporre modifiche o aggiustamenti e di sostenere che solo solo se le modifiche a cui il Parlamento approda hanno quel carattere possono avere il nostro sostegno e quindi possono essere riconosciute come utili e necessarie viceversa temo che dicendo semplicemente è meglio che non se ne faccia nulla magari non se ne farà nulla ma questo io credo non sarà un bene per il nostro paese grazie grazie grazie